62esimo salone nautico di Genova, siamo sul Power 67, l'ammiraglia della Fontaine Pajot. Questo è un video di iCat SVN Catamarans e a fianco a me io ho Luca Venica, l'amministratore della Euro Sail Yacht, importatori per il cantiere Fontaine Pajot di tutta l'Italia settentrionale e sono anche proprietari di questa imbarcazione, l'hanno proprio acquistata per poterla mettere a disposizione dei propri clienti e fargliela provare. Buongiorno Luca, ciao Luca. Ciao Maurizio, benvenuto a bordo. Allora, grazie mille, stiamo su questa barca che oggettivamente è veramente molto bella ed è anche molto spaziosa e molto grande, ce la vuoi descrivere? Beh, innanzitutto questo è un catamarano a motore, appunto dal nome Power 67, è la nostra flagship a motore, è un'imbarcazione spinta da quasi 900 cavalli, è un'imbarcazione che fa una velocità di crociera intorno ai 15 nodi e a seconda delle condizioni del mare andiamo dai 70 ai 100 litri ora. Per cui ha un consumo piuttosto contenuto? Assolutamente, ha una velocità massima di quasi 20 nodi a seconda del carico, 20-21 ed è, come dicevi tu, anche una barca che possiamo considerarla ecologica perché ha un consumo irrisorio. Ti do degli esempi, questa io penso sia una delle poche se non l'unica barca che ha un'autonomia oceanica. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi con questa barca siamo già andati in Brasile senza alcuna necessità di caricare tante. Perfetto, per cui ha un'autonomia di circa 3.500 miglia, 3.000 miglia. Guarda, questa barca ha 8-9 nodi fa 2 litri miglio. Peppa, non consuma praticamente, è una barca a vela. Inoltre questa imbarcazione proprio ha un impianto di batteria a litio a 30 kilowatt che ci dà quasi un'autonomia insieme a dei pannelli solari che andremo a installare prossimamente da 5-6 kilowatt. Per cui alla fine levererete il generatore? No, il generatore va sempre tenuto d'emergenza, però noi crediamo che il normale utilizzo di questa imbarcazione può essere fatto senza l'uso del generatore. Benissimo, perfetto. Ho catamarano, catamarano a motore, quindi abbiamo i tre spazi principali esterni che sono il pozzetto di poppa, la prua e il fly. Ce ne parli? Sì, certo. Beh, le immagini parlano da solo praticamente. Qui abbiamo un tavolo che può ospitare senza alcun problema più di dieci persone. Abbiamo fatto già delle feste dove, diciamo, siamo riusciti a mangiare oltre una ventina di persone e stare qua tutti insieme in pozzetto. Dal pozzetto possiamo salire qua attraverso questa scala sul fly. Il fly è anche un'area veramente gradevole e soprattutto durante la navigazione è la parte che si gode di più. Assolutamente perché ti dà la possibilità di ammirare tutto quello che ti sta vicino. E poi c'è il secondo pozzetto, quello di prua che ha addirittura anche una jacuzzi ho visto. Sì, esattamente. Davanti a prua nei modelli a motore spariscono le reti perché il motore ti dà la spinta per tenere sempre la prua alta e hai un'area da poter personalizzare ulteriormente con delle chaise long, con dei divani, con quello che si vuole. Considerate che i catamarani a motore stanno prendendo sempre più piede. Tanto è vero che noi gli abbiamo dedicato un canale YouTube solo per loro. Perché questo? Perché sono delle barche estremamente stabili. Quando con un monoscafo, se andate in rada, se la barca è molto grande e potete avere stabilizzatori, già sta abbastanza ferma. Ma se non li avete, la barca in rada balla. Questa no. Questa quando sta in rada è una piattaforma. Abbiamo una stabilità di forma grazie ai due scatti. Una stabilità di forma incredibile. Senti, abbiamo visto la prua, fly, pozzetto. Andiamo a visitare gli interni. In questa imbarcazione troveremo 5 cabine e la cucina IndyNet. Mentre un'altra possibilità è quella di avere la cucina sotto in una cabina, per cui il numero massimo in cabine diventa 4. Perfetto. Vedrai una cabina armatoriale splendida, gigante, luminosa. Ti dà proprio l'idea di essere in una suite d'albergo. Le altre cabine sono sempre doppie. E sono sempre grandi comunque. E sempre grandi, tutte con la televisione, una addirittura ha i letti a castello per poter usufruire meglio dei ragazzi o degli ospiti che non vogliono tutta l'intimità del letto matrimoniale. Un'ultima cosa importante, Maurizio, è la nostra piattaforma idraulica che ci dà la possibilità di alloggiare un tender di 4,20 metri per 8 persone, per cui è veramente molto usufruibile e comoda e veloce. Perfetto, vedo che poi c'è un motorone, addirittura un 40 cavalli sopra. Esattamente. Deve essere una piattaforma piuttosto potente. E' una piattaforma che tiene fino a circa 400 kg. E poi questa piattaforma, il bello è che quando scende e vara il suo tender si trasforma in una grandissima piattaforma da bagno. La mettete al livello dell'acqua e avete la piattaforma da bagno, vero? Esattamente. Perfetto, ti ringrazio molto Luca. E con questo si conclude la nostra presentazione del Power 67. Non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video con iCat SVN Catamarans.